Cortina d'Ampezzo batte crisi, aumenti e perfino gli spauracchi dei tanto contestati blitz della Guardia di Finanza. Si conferma così meta d'eccellenza per molti turisti. A parlare chiaro sono i dati del settore, un incremento del 13% degli arrivi rispetto al 2011 per la perla delle Dolomiti. Il turismo sta cambiando, quindi più stranieri, più voglia di vacanza attiva in montagna, in bicicletta, arrampicata, quindi anche la voglia di cultura ma in maniera molto più sobria e, ripeto, avere gli imprenditori che vivono la stagione turistica sul campo soddisfatti è sicuramente un segnale che dimostra che Cortina ha saputo interpretare questo cambiamento rimanendo ai vertici del turismo internazionale. Oltre agli affezionati veneziani e padovani, tanti turisti stranieri che quest'anno hanno deciso di venire in vacanza a Cortina, un segnale incoraggiante per gli operatori del settore in attesa dei dati definitivi di questa stagione.